Allora, I Cori d'Oro fanno un po' che dire la storia lotte per il potere secondare, ok spirito di morsco, prevedo la città Urk molto fico, quindi il mondo è cambiato nulla ha più senso niente è cambiato è così che sarà futuro e passato sono uniti nelle tenebre non capisco perché sono qui e non riesco a ricordare cerchiamo lo schiavista la sua mente avrà le risposte io pure li posso ammazzare dovremmo prendere un paio di krauti imparare a cavalcarli e poi galvesare un paio di krauti cos'è che ha detto? andiamo a fare un po' di malefatte finalmente libero si può anche correre furtivamente allora ragazzi c'è il furtivo e c'è il correre il correre furtivamente è la prima volta che lo sento in tutta la mia vita chi è lei? vuole delle botte? allora dai cominciamo a fare subito la missione principale ma non prima di aver ammazzato un orco che sarà là sopra con un colpo ben assestato l'icona svedere di nostra consapevolezza ah la metal gear ok si non riduco un cazzo io li massacro di legnate siamo all'inizio dubito possono essere un problema ole crepa crepa che? crepa tu oppala oppala arca ma prendo soffrite anche voi della sindrome di accessi screed? uno alla volta? viene comodo non fatelo rialzare scriverò la storia della tua morte in sangue e in chiostro tu sei un tipo importante vabbè prima ammazzato i tuoi sottoposti troveremo altro da mi sa che ci ah non lo parlo là eeeh adesso uccidete il club negati questo pezzo di stronzo lo stradito e ora lo strameno è una cosa figa non so come si faccia ma è molto figa oh hai finito per le palle cominciate ad essere tanti no caro sono tanti si mi sa che avrei dovuto prima stortirne farle fuori un po' a parte no no ragazzi allora seri anche perché se mi ammazzano gli orchi diventano orci chi mi ammazzano diventa più figo questi potenzial è una cosa che non ci piace fuga oh figa questo si incula gli hobbit è anche avvelenato bene abbiamo scoperto che qua l'approccio diretto non va poi così bene c'è su lui c'è su lui anche io su una luce sai però a differenza se si scrive non ci si ripiglia scappando via ok 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 via 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 non mi hanno visto oh che babbi di minchia via uno giucciamo gli e via e viene che carriera carriera di questa se sei da solo ti massacra questo qua è ora giubbotte è ora giubbotte la prossima volta ti prenderò, mi vendicherò no, non fu il cazzo vieni qua devi morire cosa abbiamo trovato? un martello rune ecco le rune ok, la leggenda continua a crescere in azione eroica ok, si, va bene ci fa piacere è in buona sostanza se non lo lasciavo scappare questo stronzo si potenziava ma mi avrebbe dato ricompense maggiori a te guarda fai proprio una fine barbina e invece ammazzandolo subito abbiamo preso subito qualcosina ma chi sarà mai stato? c'era l'arciere di prima? arciere arciere se sei un'arciere farai un po' fatica a fare qualcosa di semplice e ti massacro mi spiace così non mi fregherai mai ah sì? bene ragazzi hopla tan 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 non solle granché piaciuto? iscriviti al canale e clicca anche tutti gli altri video come ad esempio questi qua grazie a tutti